Salve a tutti ragazzi, sono sempre a mezzo, benvenuti in questo nuovo video di Dirt 3, cazzo, sì, è Don Botto che non ci gioco, spero che queste puntate ragazzi vi stiano piacendo Questo capello bagnato, umido per l'estate, tour Dirt signori, non sono connesso, spero che questi video vi stiano piacendo ragazzi È Don Botto che non ci gioco, avevo qualcosa di fresco magari, non di molto serio da giocare, da un po' che non sto registrando Allora continuiamo qui, non mi ricordo dove eravamo rimasti, no, no, cazzo Perché poi la gente se la mette delle parolacce, tu mi metti già il drift così, come primo video, come primo pezzo Allora ragazzi io ve lo dico subito, a parte aver distrutto tutto, qua taglierò come un animale da cacciagione Perché qui lo show, a parte che è inevitabile, in più non sono capace, non sono capace La scorsa volta ci ho messo una ventina di minuti per farlo, scusate se mi tocco sempre i capelli ma adesso vorrei cercare di asciugarmeli Avevo questo... Ecco gioco così, guarda, proprio, proprio così Che fenomeno Eh guarda proprio, non mi ricordo neanche più i tasti Ah no aspetta, avevo messo, mi sembra, i comandi, il cambio manuale No, 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 qui ragazzi succede un casino, ve lo dico Qua succede un casino Eeeh, vabbè, iniziamo Avevo messo il cambio qui, non mi ricordo, sul quadrato Ok Oh oh oh, oh oh, 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 oh Oddio me Oh, calmi, calmi, calmi No, ha, sono andato nel buco Ok no, me lo cambiò da solo, perfetto È impossibile tenerla in capo Cazzo, in capo, strada, fa culo Eh sì, tua mamma quella nera che sta lì in Kenya. NOOOOO! Ma vaffan- Unumele 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 E unudele Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, la più bella ho sbagliato. Porco eclero di Dio. No, la più bella ho sbagliato. Ovviamente, ma 22 minuti per un fottuto cazzo di oro. Scusate le parolacce, puttana troia. Fanculo, cazzo. 20 minuti ci sono stato. Non so voi che cazzo avete visto perché io avrò tagliato come un tagliaformici. Non lo so. Vaffanculo. Beh. Caputana. Decare di merda. Le odio. Le odio. Ti dimmi se dovevo impazzire così. Volevo un gioco tranquillo. E vaffanculo. Scusate. Ci stava tutto perché... La squadra che c'è interessa da te. Controlla l'ivreo e offerta la squadra. Yeah. Ok. Facciamo una fottutissima gara per il verso. Addirittura mi sembra di aver messo le marce manuali. Con il quadrato e la X sono. Però non mi ricordo. Allora. Oh, facciamo la finale. Finalmente. Porca puttana. Allora ragazzi, spero che questi video vi stiano piacendo. Dopo oggi, non so se vi piaceranno ancora. Vediamo qua se c'è... Allora, questo mi dà 500 di reputazione. Ok. Ok, pigliamo 90s. Boh. Ruvigna. Non so se terrò le marze automatiche adesso perché da un po' che non ci gioco e... E non mi ricordo neanche più come cazzo si cambia. Adesso guardiamo un attimo... Aspen! Sempre neve, vaffan giro! Vediamo un po' se... Eh, beh, se ci sono i comandi, se mi li fa vedere. Vai. Allora. Difficoltà e aiuti. Allora, impostazioni avanzate. Allora, questa è la difficoltà dei nemici. È solo visivo. ABS? Sì. Trattoria dinamica? Sì. Controllo stabilità? No. Frenata in curva? No. Io proverai così, signori. Ok. Se faccio impostazione veicolo, rapporto, portanza, sospensione... Partecipanti? Niente, facciamo gara. Le marce... Vedo che se la prima dura tanto... Ok. Nelle prossime gare ne proverò a mettere una interna perché me l'avete chiesto e poi proverò a cambiare ogni tanto il visuale così da accontentare tutti. Apre inarcamento all'interno. Wow, 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 wow. Qui è gara a chi toglie più paletti, ovviamente, sulla neve. Escio. Escio. Wow, 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 wow. Guarda lì, il paletto. Entra volta Spengler ti farò un culo grande come una casa. Dai! No, 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 no. Occhio, occhio, occhio Calmo, fammela Non riesco più a controllarla Wow, bella questa Bella il derrapage qui Pistica il naso Ora, ora che ce l'ha salita Oh che salita, mamma mia Oh no Sempre con sto culo Eh, prima non ho voluto usare il flashback Bella Non ho voluto usare il flashback E ho sbagliato Perché ho perso Sono arrivato secondo Stavolta rimango primo però Fottuto Spangler Noi cazzo, dai Mamma mia Ok, il grande salto è venuto Oh, meglio quasi della scorsa volta Sì, 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 dalla prima volta Ok, ok, ok Non come prima, ti prego Porca puttana, sono teso come Sessante Pesta traguardo Taglie Taglie C'è Grande cazzo Grande cazzo Ok, proseguiamo Eh vabbè Si fa così Sì, non è che Cioè, nel senso Eh Avete capito, no? Dai, dai, dai Forza, vinciamoci sta finale Andiamo a fare l'ultimo evento di questo evento Così, giusto Per essere chiari Per non usare ripetizioni Mi sembra giusto, no? Chiaro anche Fantastico Come detto ragazzi Spero che questi video vi stiano piacendo Fatemi sapere Se vi piacciono Ovviamente con un commento Un mi piace Un consiglio E ovviamente anche Se volete nuovi titoli Ovviamente qualcos'altro Però adesso vedremo Se riusciremo a recuperarlo Perché devo anche recuperarlo Devo acquistarlo Quindi Vedremo Vedremo Gara Andiamo Forza Veloci Veloci Cioè, ti ho poi Io non c'è questo che Per far due gare Ci sono due gare 120 salita Su Grinale Sinistra media Apre Inarcamento All'interno Cosa? Cosa? Cosa nessun problema Non mi romperai le palle Se non c'è nessun problema Stai zitto allora Destra facile Poi sinistra Facile lunga Sessanta dentro edificio 120 salita Grinale verso Sinistra media Caproia Un cazzo Un cazzo Qua se sbaglio Un colpo Signori Son fottuto Son fottuto Proprio nel culo Ecco esatto Vedi Porca puttana Destra media Verso Tornante Destra aperto Allora ripeto Stai zitto Sotto il ponte Sinistra media Sotto il ponte di baracca C'è Pierin che fa la cacca Io bono La fa dura 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 Il dottore la misura Oh cavo tua Sinistra facile Sessanta Messo traguardo Sì 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 F*** Non ho detto troppe Non ne dico più Puttanassa sosta Sì Fottuto All'ultimo secondo di gara Ti ho messo Sì Voi non ve ne rendete conto Ma io sono 45 minuti Che sto registrando Per far Due gare Due Puh Oddio Volevo un gioco tranquillo Ma perché non mi compro Animal Crossing per DS Cazzo Così sto lì tranquillo Gioco nel mio giochino E sto tranquillo Porca puttana Senza bisogno di Smanettare tanto Eh Grande Cazzo vuoi Oh signori Facciamo anche questa Ginkana Ce ne sono tantissime Vabbè E io faccio la prima Smash Tutorial Porco Altre derappate Altre derappate Datti una mossa Ok Signori Va così signori Devo riprenderci la mano Ci ho messo Circa Un'ora Per riprendercela Però tutto bene Tutto ok Ehi come va Non hai ancora visto i video Di Ken Devi rimediare Al più presto Perché sono pazzeschi E queste cose non si parla Ed è anche un grande innovatore Di questa disciplina Si può dire Che l'abbia creata lui Dai Christian Mi fai arrossire Mi fai arrossire Appena hai imparato Le basi della Ginkana Prepareremo delle sfide In modo che tu Possa mettere in pratica I consigli di Ken Ora è il momento Di rimboccarsi le maniche Sarà uno spettacolo Bene Eccoti alla scuola Di Ginkana Di Ken Block Cazzo devo fare Inizia Il modo migliore Per familiarizzare Con questa disciplina È Distruggere tutto Ken Confermi La prima cosa da fare È imparare a distruggere I blocchi È semplice Facci contro Con la tua vettura E otterrai punti Per ogni blocco distrutto Distruzione massima Ken Ti ha mostrato Come si fa Distruggi dei blocchi Per ottenere Almeno il bronzo E procedi Al prossimo tutorial Signori Qua staremo Un'altra ora e mezza Abbondante Voglio andare su Ma Un'altra ora e mezza Un'altra ora e mezza Un'altra ora e mezza Un'altra ora e mezza Deve Un'altra ora e mezza E' E' bay 85 gradi, peggio che in Kenya, puttana zorca, sto veramente morendo, basta, concludiamo con questo video, non ce la faccio più, grande, almeno mi ha salito un po' la reputazione, bene signori, io direi che possiamo concludere qua il video, spero che questo video ragazzi mi sia piaciuto, ho fatto un po' di tagli perché sennò il video sarebbe durato, aspetta quanto? Adesso 52 minuti e 10, voi ditemi se è normale, non è normale, fate bene a dirmelo, sei un idiota, fantastico signori, spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto, vabbè, spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, iscrivetevi alla pagina facebook, sempre la solita cantilena, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da mezzo, ciao a tutti ragazzi